Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul nostro canale ed un nostro nuovo video come al solito io sono Gabriel, io Birillo, oggi andremo a far vedere il nostro nuovo liquido, vai Birillo esponicelo allora, babà a Roma, della Dream Mods, abbiamo già fatto tanti aromi di questa casa qui, buonissimi ora andiamo a fare la prova di questo liquidozzo che va messo dentro la vasetta, noi abbiamo fatto una 70-30 abbiamo messo dentro la Roma, 10 ml e l'abbiamo agitato e l'abbiamo lasciato lì a macerare un paio di settimanietta per lasciarlo un pochino maturare per bene, ora andiamo a fare la prova in cima al profile per sentire bene l'aroma, vai Gabriel, occhio alla boccettina che questo non faccio un danno un liquidozzo molto valido perché fino a ora non c'è mai deluso, questa marca qua è tanta roba lo consigliamo, lo potete trovare da Schwappo Caffè, Marini Carrara, Moliciara e la Spezia andate a trovare il grande Cri anche questo si prende un bel nove cremoso, cosa c'è qui? è bello cremoso poi ti rimane in bocca proprio la pasta del babà la pasta del babà e il rum, il rum leggero sinché è bene la pasta del babà non smaga, cioè non è che è troppo invasivo il rum si arriva per le calacetti che abbiamo provato se sentiva tanto il rum e poteva dare noia questo è bilanciato benissimo tanta roba tanta roba 10 per questo inverno, questo qui, a chi piacciono quei dolci anche perchè è faccissimo da fare la baseta, butti dentro, shaker, chi ci vuole la nicotina, nicotina, shaker tutte le sere ci dai una shakerata per un paio di giorni è buona chi non vuole svappare da subito, lo può provare da subito allora, dalla taverna dello svapo è tutto se il video vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale ricordatevi che abbiamo la pagina su Facebook e su Instagram venitici a seguire, vi aspettiamo, ciao! ciao